Per un weekend fuori dalle mura domestiche Vai alla Darsena, dove? Al Caffè del Mar, a Rabadaia, al Birro Ed è sempre aperto Ganesh, aperitivi, dinner lunch, cena e musica a Borgio Verezzi E il 4 apre il ciringhito ad Albissola Marina, presso il Juvan Beach E sono aperte tutte le discoteche estive Il Baida Anoli, lo Sporting a finale Il Golden Beach, i Colombo, il Sole Luna ad Albissola e la Cappannina ad Alassio E se hai idee e consigli e vuoi far sentire la tua voce Manda un SMS a questo numero E mi raccomando Divertitevi Per un weekend fuori dalle mura domestiche Vai alla Darsena, dove? Al Cappell Come vedete troppi buoni motivi per non restare in casa questa fine settimana Restateci